Il GAB, ovvero genitore, adulto, bambino. Qualora uno o più di questi cerchi prendesse il sopravvento sugli altri, assisteremmo a delle deviazioni caratteriali. Ma questa è la sindrome del bamboccione! Grosso modo, considerando che la società odierna non consente di uscire da tale conduzione. Allora, novità lavorative? Ti dispiace lasciarci mangiare un po' in pace? E tu, tesoro, com'è andato il colloquio ieri? Praticamente un sequestro di persone. Pretendevano che lavorassi 7 ore al giorno fino al sabato per 900 euro al mese! Avete una certa età e non pensate a crearvi un avvenire, a mettere su famiglia. Io gli ho dato la laurea e voi, da genitori, mi dà della tranquillità. Ognuno ha i suoi ruoli e il suo compito. Tutti i sacrifici che abbiamo fatto per mandarlo a scuola, per la laurea! Con tutto il rispetto, ma credo che non vi siate comportati da bravi genitori. Ora dovrei vergognarmi per averlo messo al mondo e perché vorrei vederlo autonomo! Mamma mia? Ciao, sono io! Senti, mi hai levato la biancheria che ti ho portato ieri? Grazie! E senti, il brodino? Me l'hai preparato? Dai, che un mo' di golo, per favore, preparami un bel brodino! Ok? Grazie! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie a tutti.